amici portieri come promesso iniziamo la rubrica dedicata a voi quindi oggi vediamo altre due tipologie di guanti che ci sono nel mercato e potete trovare sul nostro sito g6 una dei marchi migliori in commercio soprattutto per il rapporto qualità prezzo perché non ha quanti a livello alto che costino più di 70 80 euro e qua trovate veramente anche dei guanti sui 40 50 euro veramente top paragonabili a dei modelli di marche molto più elevato a livello di prezzo due tipologie di guanti questi due neo giga guanto molto slim lattice tre strati per chi cerca un guanto che aderisca alla perfezione alla propria mano perché vuole la massima sensibilità quest'altro modello ha una particolarità la robustezza soprattutto il gel sulle dita per le uscite alte ma soprattutto per chi vuole sentirsi il polso ben fermo la struttura di blocco del polso è veramente molto ampia con questo elastico e addirittura ha il lattice che va fino in fondo per dare il massima presa quando si prende il pallone